Tra le scadenze della prossima settimana segnaliamo una scadenza che interessa le scuole. Dal 10 al 31 dicembre apriranno le funzioni SIDI per personalizzare e poi pubblicare i moduli relativi alle iscrizioni al prossimo anno scolastico. La stessa data interessa le scuole secondarie di primo grado che dovranno comunicare appunto dal 10 dicembre il consiglio orientativo relativo agli alunni frequentanti le classi conclusive. Il 13 dicembre scade il termine per aderire al concorso premio Giovanni Grillo dedicato alla memoria di Giovanni Grillo militare italiano deportato nei campi di concentramento tedeschi durante l'ultimo conflitto mondiale. Possono partecipare gli studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado. Il 15 dicembre invece la scadenza per inviare la scheda di partecipazione al concorso il senso della biodiversità rivolto alla scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado con l'obiettivo di promuovere azioni e riflessioni che permettano l'approfondimento di temi ambientali e sociali relativi ai cambiamenti climatici e alla difesa della biodiversità. Arrivederci alla prossima settimana.